C'è una parola intraducibile in italiano che descrive alla perfezione il particolare senso di straniamento verso il cambiamento dei consumi globali. Si pronuncia Ixorpok ed è una parola inuit che descrive l'ansia dell'attesa, come quando si continua a guardare fuori dalla finestra ripetutamente nella speranza di vedere qualcuno arrivare. La stessa miscela di impazienza eccitazione, forse anche un pizzico d'ansia che si prova di fronte al cambiamento imprevedibile del mercato. Sono Andrea Fioravanti e questa è Scenari 2024, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo On Air. Approfondiremo i temi politici, sociali ed economici che ci accompagneranno nei prossimi mesi. In questo quarto episodio vi raccontiamo le cinque tendenze che cambieranno il commercio globale nei prossimi anni. Questa è una delle tante notizie decisive del 2024 di cui abbiamo parlato nel magazine scenario. Negli ultimi vent'anni abbiamo assistito alla versione più efficiente della società consumistica, la globalizzazione. I cittadini acquistano beni e servizi da tutto il mondo generando domanda che a sua volta stimola la produzione e il commercio creando così lavoro e reddito. Quel reddito, frutto del lavoro, viene speso in beni e servizi e la ruota continua a girare. Poi però è arrivata la pandemia che ha alterato rapidamente i desideri dei consumatori causando prima forti carenze perché tutti volevano le stesse cose all'improvviso e non c'era abbastanza offerta. E poi determinando un surplus, quando le aziende hanno prodotto troppo di quanto chiesto in precedenza. Ma ora che i supermercati sono di nuovo pieni e nessuno fa più scorte di lievito, quali sono le nuove tendenze dei consumatori? Quei mesi di isolamento mondiale hanno accelerato due effetti opposti e forse irreversibili. Da una parte sono aumentati gli acquisti online, grazie allo sviluppo del mobile banking e al miglioramento delle infrastrutture di consegna che hanno reso più facile e conveniente comprare senza uscire neanche di casa. Dall'altra parte, i consumatori stanno considerando sempre di più l'impatto ambientale delle loro scelte di acquisto, preferendo opzioni più sostenibili. Tradotto, si acquista più facilmente ma non cercando il prezzo più basso o la consegna più rapida, perché non si vuole avere sempre un impatto negativo sul nostro pianeta. Abbiamo capito che la produzione, l'immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita dei prodotti sono necessari per far crescere il benessere mondiale, ma non sono scontati e hanno un costo per l'ambiente. Nel magazine dell'inchiesta in collaborazione con il New York Times, Marcos Galperin, fondatore e presidente di Mercado Libre, la principale piattaforma latinoamericana di fintech, spiega che l'espansione dell'e-commerce è inevitabile e potrebbe raggiungere un fatturato globale di oltre 7 mila miliardi di dollari entro il 2025. Sempre più investitori stanno finanziando le applicazioni di delivery, soprattutto in mercati emergenti come quello del Sud America. Sempre Galperin spiega che per rispondere alla nuova sensibilità dei consumatori verso l'impatto dei consumi sull'ambiente, le aziende di e-commerce di tutto il mondo hanno investito in una serie di soluzioni alternative per le consegne a lunga e breve distanza, che permettono di decarbonizzare i trasporti e di rendere più efficiente la logistica. Vi faccio un esempio. I pacchi vengono ora consegnati in diverse zone del mondo, non tutte, utilizzando veicoli elettrici e biciclette a basse o addirittura a zero emissioni, passando attraverso delle last mile delivery stations. La speranza è che accada lo stesso in tutto il mondo. Un altro regalo inaspettato del periodo pandemico è stata la crescita dei portafogli virtuali e dei pagamenti istantanei, che hanno inaugurato una nuova era di inclusione finanziaria per tutte quelle persone che finora erano tradizionalmente prive di conti bancari per ragioni logistiche o economiche. Il mondo di oggi ha ridotto le distanze e questa trasformazione non dà solo più potere agli individui e neanche migliora solo il loro accesso ai servizi finanziari. In realtà rivoluziona le abitudini di risparmio, di investimento e di finanziamento. Per Christine McDaniel, Senior Research Fellow presso il Mercatus Center della George Mason University in Virginia, gli acquisti dei consumatori sono meno orientati verso le cose e più verso l'avventura e il divertimento. Certo, lei parla degli americani, ma questa quarta tendenza potrebbe cambiare radicalmente il volto della società consumistica di oggi. Infatti, secondo un recente rapporto della Società di Servizi Finanziari UBS, la spesa per beni come abbigliamento, calzature e accessori è diminuita in tutte le fasce di reddito, mentre è aumentata la spesa per i viaggi e le attività ricreative. Per esempio, nel luglio scorso, la US Travel Association ha registrato un aumento del 12% dei viaggi aerei rispetto allo stesso periodo del 2022. Sembra che le persone siano sempre più spesso alla ricerca di qualcosa da vivere e a cui partecipare, piuttosto che di qualcosa per cui spendere semplicemente dei soldi e accatastare. E questo modello di consumo ci dirà tantissimo sulla felicità dei consumatori e in realtà di noi cittadini, ma ci dirà anche tanto sulla direzione dell'economia globale. Per capire bene dove andranno queste tendenze, bisogna ascoltare molto bene l'educatrice finanziaria Kyla Scanlon, che nel magazine dell'inchiesta in collaborazione con New York Times spiega quali sono i tre elementi principali che regolano il come e il perché decidiamo di acquistare qualcosa. Primo, la gratificazione immediata. Secondo, il costo della sostituzione rispetto alla riparazione. Terzo, la pubblicità. Tutti questi tre elementi ci spingono al momento verso un modello di consumo eccessivo e non sostenibile. Ma non è per tutti così. Certo, in termini di gratificazione, l'amazonizzazione dello shopping online ha aumentato le aspettative dei consumatori, che vorrebbero ricevere i prodotti che desiderano con la stessa velocità con cui li hanno desiderati. Ovviamente si tratta di un modello commerciale assurdo, anche per la nostra società capitalistica, ma ci siamo abituati ad aspettarci che sia così e a ignorare le conseguenze ambientali. E poiché le cose si presentano ordinatamente confezionate in una piccola scatola di cartone, è facile dimenticare la catena di approvvigionamento che rende possibile tutto questo. La stessa che abbiamo scoperto durante la pandemia. Ma è proprio su questo punto che c'è una marcata differenza tra le abitudini degli under 40 rispetto alle generazioni più adulte. Infatti, la quinta tendenza da tenere d'occhio in questo 2024 è l'ascesa del mercato di seconda mano. Secondo una ricerca del Census Bureau, il mercato dell'usato negli Stati Uniti dovrebbe raddoppiare entro il 2026, raggiungendo gli 82 miliardi di dollari. Più del 60% dei consumatori che fanno parte della generazione Z e dei millennial dichiara di dare un'occhiata agli articoli di seconda mano prima di acquistarne di nuovi. Questi nuovi trend non nascono dal nulla, ma sono frutto di processi già in atto che sarà difficile frenare o addirittura invertire. Per questo c'è una seconda parola da tenere a mente per governare con calma il cambiamento senza farsi travolgere da tutte queste novità. Si pronuncia in italiano molto male e in portoghese descrive la capacità di improvvisare una soluzione rapida e ingegnosa a un problema senza avere però tutti gli strumenti o le risorse ideali a disposizione. Non è solo l'arte dell'arrangiarsi tipicamente italiana, quanto il tempismo geniale in cui si trova una via d'uscita creativa e non convenzionale a un tema complesso, come abbiamo fatto durante la pandemia.